buonasera dal cusquet ci sono delle novità per il coronavirus vedete venuto a trovare anche me e niente le notizie sono sempre le stesse c'è un po di cerchio alla testa perché il coronavirus fa venire ma di testa e altro non so cosa dire vediamo se mi passa poi mi farò di un vedere i con gli amici